buongiorno buongiorno a tutti eccoci per la segna stampa di oggi martedì 10 novembre oggi ancora diciamo su qualche giornale ci sta l'america biden il discorso che ha fatto sul sulla pandemia sul virus sul vaccino ma la notizia è quella della notizia per l'appunto data dalla società americana che il vaccino sarebbe efficace al 90 per cento le prime dose arriverebbero già dalla fine di quest'anno questo ovviamente trascina anche la valutazione positiva delle borse insomma di questo si parla sulle prime pagine dei giornali ancorché si privilegia la situazione italiana che si descrive come in netto peggioramento correre della sera altre cinque giorni cinque regioni in zona arancione invece la repubblica titola sul vaccino all'italia 1,7 milioni di vaccini e questo è già una notizia che si dà più un'indiscrezione lo vedremo sulla repubblica e la stampa il virus attacca altre cinque regioni la gioia il giornale la borsa archivi al covid il domani per svuotare gli ospedali ecco gli hotel del ossigeno ma questa è una cosa riguarda più la situazione degli ospedali il tempo il re de viagra scopre il vaccino sì perché sembra che sia colui che ha inventato anche ha scoperto anche il viagra che è il capo della società del colosso farmaceutico usa che ha brevettato la pillola blu come dice il tempo ma go covid la cura c'è già e questo invece fa riferimento alle cure non tanto al vaccino questo sul sul libero il messaggero dedica all'italia ma ci mette anche il vaccino nel titolo di apertura stretta in cinque regioni ma il vaccino è pronto il sole 24 ore titola sulle borse che esplodono positivamente con la notizia del vaccino il vaccino pfizer mette il turbo alle borse e l'avvenire ancora una volta con i suoi titoli il vaccino è vicino fa riferimento alla notizia appunto data ieri dal colosso farmaceutico americano questo è il quadro della situazione direi però che molto si incrocia anche con le notizie dell'america e sono molte le notizie di oggi che si incrociano ovviamente con il tema dominante che è quello del vaccino vediamo subito i numeri i numeri sono a pagina 5 del Corriere della Sera con Paola Caruso che ci dice che sono 25 mila nuovi casi ieri 356 vittime in calo contagio e tamponi ma è positivo il 17 per cento dei test altri 100 pazienti ricoverati in terapia intensiva questa è la notizia che ci dà Corriere della Sera invece però dei dati dei numeri voglio passare ai dati perché per quanto riguarda i dati voglio segnalarvi il domani che a pagina 3 la mette così la trasparenza che manca nella classificazione delle regioni è Vital Bazzolini che scrive nella prima ondata il governo ha imposto misure uguali per tutti a prescindere dalla diffusione del contagio ora l'approccio è cambiato ma il sistema resta opaco e discrezionale anche se è presentato come automatico e qui c'è da leggere subito una parte dell'editoriale del direttore del domani che è Stefano Feltri che la mette che il titolo è il governo deve pubblicare tutti i dati sulla pandemia e la mette così tra l'altro dice perché rendere pubblici i dati perché da anni la ricerca è integrata a livello mondiale caricare è integrata a livello mondiale caricare dati più dettagliati di quelli oggi disponibili sulla piattaforma guide hub permetterebbe ai ricercatori di tutto il mondo di studiare quello che sta succedendo in Italia di capire quali misure funzionano e quali no se ci sono aree che possono essere salvate dalle chiusure con una grande operazione di trasparenza attireremo l'attenzione della comunità scientifica internazionale avremo i migliori cervelli del pianeta al lavoro per noi gratis perché il loro vantaggio deriverebbe dalla successiva pubblicazione di articoli accademici basati su dati italiani anche noi giornalisti avremo dati più utili e informativi di quelli molto grezzi sui contagi giornalieri potremmo valutare se quello che ha fatto il governo in questi mesi è corretto ma questo è l'ultimo dei problemi ora perché la priorità è fermare il virus con meno danni possibili ma ci mancano i dati sulle scuole quelli sulle terapie intensive perfino quelli sui decessi non ci sono ragioni per tenere segrete queste informazioni se non il timore di essere giudicati dai cittadini e prima di loro dalla comunità scientifica ma la scelta della segretezza implica già un inevitabile giudizio negativo e senza appello il governo ha dimostrato di non avere le competenze o la volontà politica per gestire da solo queste analisi come dimostra il flop di immuni la app che non è riuscita a tracciare i contagi presidente conte ministri scegliete la trasparenza e lasciate lavorare chi ha le competenze e l'indipendenza per farlo per il bene del paese non c'è più tempo da perdere la mette così stefano feltri e non c'è dubbio che come vedete il tema dei dati non ci abbandona potrebbe essere diversamente ma l'altro tema è quello che riguarda le regioni e qui ovviamente le cose si ingarbugliano ancora di più il correre della sera con monica querzione e fiorenza sarzanini ci dicono che altre cinque regioni in arancione e in campania arrivano in asse da domani la stretta in liguria toscana umbria abruzzo e basilicata rischio di un'epidemia non gestibile oggi la scelta sul napoli e qui c'è anche un'intervista che fabrizio caccia fa con la presidente della regione umbria non l'avamo ascoltata ancora in questi giorni ne abbiamo ascoltati abbastanza altri preoccupata per l'economia ho anche un figlio ristoratore lo stato dovrà esserci vicino dice convertoraso lavoro per uscire dalla emergenza questo ci dice sul correde della sera la presidente della regione umbria e tesei la repubblica è nelle pagine 4 e 5 che si occupa della situazione in italia con la classificazione delle regioni in arancione altre cinque regioni la situazione peggiora da domani la stretta di speranza su liguria umbria toscana abruzzo e basilicata bolzani rosso si mette automaticamente rosso da solo spostamenti vietati ristoranti chiusi l'allarme della cabina di regia rt a 1,7 ed aumentano i ricoveri e ci si dice anche qui che il lazio resta giallo con crescita di ricoveri più bassa che altrove ieri 22 mila 25 mila 271 casi in italia ma abbiamo visto con 140 mila tamponi e se volete a pagina 5 invece stanno dario del porto e concita sannino che parlano della campagna oggi cambia colore anche la campagna i dubbi sui dati forniti dal territorio a napoli ispettori del governo al lavoro sui numeri possibili il salto diretto in zona rossa questa è la situazione della campagna poi se volete c'è anche un'intervista al governatore del veneto zaia che dice ognuno pensa a sé si è perso lo spirito di marzo ecco perché il covid vince tra l'altro domanda l'intervistatore che è carmelo lopapa secondo l'ordine dei medici sarebbe meglio un lockdown immediato per evitare il peggio lei che ne pensa dice zaia se tutti facessimo ricorso in maniera direi ossessiva alla mascherina se curassimo l'igiene delle mani ed evitassimo uscite scampagna e scampagnate potremmo vivere senza restrizioni e dice lo papa dato che purtroppo non è così risponde zaia il lockdown sarebbe una sconfitta la conferma che non siamo stati capaci di rispettare regole basilari ma sarebbe una tragedia in mano sotto l'aspetto economico in veneto abbiamo 60.000 posti di lavoro quest'anno pur partendo dal tasso di disoccupazione più basso d'italia il 6,6 per cento dico una cosa la salute dei cittadini viene prima di tutto ma non possiamo assistere nei prossimi mesi alla gente che si butta dai balconi per la disperazione niente lockdown insomma dice lo papa e risponde zaia io non voglio pensare passare per chi promette cose che poi non si realizzano dico però che lavorerò perché non si arrivi alla chiusura di tutto ma i cittadini ci aiutino dipende in buona parte da loro vedete che qui c'è un richiamo l'ennesimo richiamo ai cittadini alla loro responsabilità a proposito di quello che avviene in campagna vi segnalo sulla pagina 4 del domani contagio fuori controllo nessuno ma nessuno osa più chiudere la campagna e daniele preziosi che scrive a sorpresa la regione rimane in zona gialla il ministro speranza aspetta De Luca difende i suoi dati e vorrebbe restrizioni soltanto a napoli questo è così lo mette il 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 domani ma vi dicevo c'è il tema della della diciamo della del buttarlo un po sulla responsabilità dei cittadini e allora sotto questo punto di vista voglio segnalarvi alessandro campi sul messaggero che è a pagina 18 e quindi ci arriviamo affronta proprio questo argomento e dice le regole da rispettare e la strategia che non c'è dice a spiegare l'adozione di questo atteggiamento vagamente paternalistico all'insegna del caldeggiare senza imporre forse concorre la paura che conte e i suoi ministri si sono presi dopo lo scoppio in varie parti d'italia di proteste e contestazioni per non esesperare ulteriormente gli animi col timore che si accresca lo scontro sociale si è perciò ritenuto di non eccedere in diveti e chiusure peccato solo che un sacrificio non fatto oggi non imposto dall'alto e non accettato dal basso rischia di produrre uno più grande e più pesante domani d'altronde chi nella condizione in cui ci troviamo crede davvero che senza un vero lockdown di almeno un mese ci si possa tranquillamente godere il natale coi parenti viene il sospetto che la strategia nascosta del governo nel tentativo persino comprensibile di non creare troppo allarme di non farsi troppo male sul piano del consenso sia quella di chiudere ma non troppo di limitare ma senza esagerare per poi dinanzi ad un quadro nel frattempo peggiorato per colpa va da sé dei cattivi comportamenti degli italiani mettere questi ultimi dinanzi alla necessità imposta dalle circostanze di una nuova e più lunga stretta una sorta di tirare a campare che tra una raccomandazione e l'altra tra un dpcm e l'altro rischia però di portarci in questo stato di continuo allarme sanitario dritti a gennaio e febbraio ben oltre dunque tutte le festività che per definizione sono un'occasione intrinseca di contatti e contagi ricordate il precedente lockdown per riaprire l'italia si aspettò saggiamente il passaggio di tutte le ricorrenze comandate primaverili oggi non si ha il coraggio di dirlo ma forse si pensa di fare lo stesso se quando però una strada obiqua e solo apparentemente meno dolorosa se a natale vogliamo dunque avere una minima speranza di normalità dobbiamo chiudere tutto subito quel che può essere chiuso avendo cura di offrire sostegno temporale a coloro che avranno a soffrire di una simile decisione l'alternativa di una cura da cavallo della durata di qualche settimana è quella ben peggiore di un tunnel di sofferenze rinunce e paure destinata a durare mesi cosa sceglierà il governo cosa preferiamo come cittadini ecco qua vedete che il messaggero mette in evidenza il tema del anche atteggiamento paternalistico che c'è da parte del governo nei confronti dei cittadini ma c'è un altro taglio che voglio segnalarvi che è quello di giuliano ferrara sul foglio che parla anche diciamo della motivata in qualche modo confusione e quindi è scarsa poi attenzione nei comportamenti dagli altri da parte degli italiani in relazione agli annunci diciamo agli stop and go alla confusione che c'è anche nella comunicazione scrive ferrara sul foglio in prima pagina in un paese come il nostro che per arbasino era un paese senza stato e senza molte altre cose al minimo cedimento del potere centrale esecutivo specie in un'emergenza corrispondente immediatamente corrisponde immediatamente lo spaisamento ora la ditta del viagra garantisce un vaggino buono al 90 per cento ma parte le borse che gioiscono è escluso che se ne possa fruire prima della prossima estate e l'inverno è lungo si ha il diritto di non capirci più niente l'inondazione degli annunci è scabrosa plateale ispira non più la composta paura dello scorso mese di marzo ma lo scomposto conflitto delle opinioni le regioni parlano ciascuna la sua lingua iscrivere in una cartilla colorata diseguale allo scopo di abbattere la curva dei contagi e salvare il sistema ospedaliero e di cura riabilita l'uso politico o politicante dei dati sanitari incrociati con i bisogni economici sfuggenti a un denominatore comune contano di nuovi consensi percepiti gli interessi legittimi delle categorie dei settori che nel richiudere tutto si vedono annientati alle classi dirigenti territoriali si associano poi l'ordine dei medici che vuole la chiusura totale uniforme e cento voci autorevoli che definiscono fuori controllo la situazione così la paura si moltiplica in sentimenti ondeggianti uno si isola l'altro socializza si familiarizza l'idea di una influenza per vecchi e malati al tempo stesso ci si ritrova sulla scala a del condominio a scuola per i più piccini gli effetti della moltiplicazione evidente ed esponenziale dei casi e a ciascuno si avvicina con le notizie da un amico da un parente questo mostriciattolo virale che si lascia trattare anche da beffa in certi momenti si ha nostalgia di quando i filosofi puri asini denunciavano un progetto per eliminare la libertà e il dissenso perché il loro straparlare di dittatura sanitaria dava adito all'idea che in effetti certe cose importanti fossero decise decise senza sconti decise presto decise per il bene comune più importante del pillo del consenso maggioritario ora dopo tanti dpcm costruiti come il codice della strada è arrivato il frazionamento delle responsabilità qui si passa col rosso qui col giallo qui col verde e la mentalità collettiva si ignora nella sicurezza della rassegnazione il tricolore che era esposto sul balconi ora lo si brucia ciascuno vuole essere autonomo fare da sé ma fare cosa non si sa la prerogativa logica e fattuale di una pandemia è che riguardi tutti e tutti più o meno nella stessa misura con lo stesso grado di rischio ieri il rischio era misurato tutti i giorni alla stessa ora da tutti vissuto da nuclei familiari e persone inchiodate al bollettino nazionale della disgrazia ora il ricondicimento a uno alla semplicità delle misure fondata sulla verificabilità e sulla centralizzazione dei dati tutto questo è in parte compromesso e è appena ovvio che in un momento di crisi vera quando la capo infermiera dell'istituto sacco tratta il virus che ha sconvolto la sua e tante altre vite come il male male con l'articolo determinativo che assolutizza la piaga della peste virale quando si rilanciano le immagini di file disperate ai pronto soccorso e si reimbastisce la tragedia delle terapie intensive in tale situazione il primo ossigeno di cui ha bisogno è la capacità di guida come presa in carico decisione sostitutiva di un diritto individuale non andrai a ostia sul lungomare o in via caraccio la napole a far balloria con la mascherina o senza perché qualcuno ha deciso altrimenti per te senza paternità o maternità non c'è autorità che tenga non c'è cura dai mali estremi della vita non c'è criterio di condotta gradualità e decentramento sono concupiscenza potenziale garantiscono desiderio speranza libero arbitrio e anche in coscienza di responsabilizzazione e appunto spaisamento certo non sono fatti per indurre comportamenti utili nel desiderio dell'esponenziale così la mette giuliano ferrara sulla diciamo sulla confusione che regna e ve l'ho messo questo perché non c'è dubbio che c'è un atteggiamento come diceva campi un po paternalistico nei confronti dei cittadini ma se ci spostiamo dalle regioni a un caso che è quello della regione calabria perché perché lì c'è stato veramente il tripudio del surreale da parte delle nomine del governo lasciatemelo dire perché obiettivamente è qualcosa che sta fuori dalla grazia di dio ma insomma la stampa la mette così nel taglio basso di pagina 11 cotticelli e la sindrome da telecamera non ero io forse mi hanno drogato l'ex commissario alla sanità calabrese dall'intervista che gli è costata la poltrona allo show di giletti sì perché è andato pure da giletti a dire queste bagianate ma voi dite vabbè questo è quello però per fortuna l'hanno sostituito ecco il piccolo particolare è che quello con cui l'hanno sostituito diciamo non è esattamente meglio di quello che è stato sostituito leggiamo a pagina 11 falice manti sullo giornale gli intrighi della calabria si muove la magistratura sui lockdown dei veleni faro di gratteri sulle accuse tra i commissari regione al voto tra il 10 febbraio e il 15 aprile e se non vi basta ci abbiamo ancora sulla calabria il tempo a pagina 6 e parla di quello nuovo ci mancava a no adesso questo è perché ieri poi c'è stato tutto il dibattito sul fatto che qualcuno dice mettiamo sostituiamo quello che ha sostituito questo zuccatelli su sostituiamo con gino strada e allora francesco storace scrive ci mancava solo gino strada furiosa perfino la base locale grillina nel caos l'unica a fare festa è sempre l'andrangheta dopo i due commissari disastrosi il governo ha pronta la ciliegina con la nomina consulente del patron di emergency questo sul sul tempo ma a questo punto per chiudere la partita con la calabria voglio prendere il riformista perché a pagina 4 la mette così cotticelli a capo dei carabinieri la nomina sfumò all'ultimo miglio il generale rimosso alle prese con le indagini su se stesso e sull'intervista in stato confusionale era nel 2014 l'erede designato di gallitelli alla guida alla guida della benemerita ma pinotti gli preferì del set ecco meno male la pinotti una cosa buona l'ha fatta e paolo comi che ce ne stive sul riformista ci mancava solo che l'arma dei carabinieri finisse in mano a un tipo di a un soggetto così ma chiudiamo anche con la calabria perché adesso affrontiamo eh di fronte a quello al crescere dell'epidemia quelle che sono le criticità e allora sicuramente tra le criticità c'è quella degli ospedali ce ne parlano vari giornali ce ne parla il Corriere della Sera a pagina 6 gli ospedali al limite è Lorenzo Salvia che firma quest'articolo via le panche dalle cappelle per fare spazio ai reparti a Monzaletti quasi esauriti ora Codogno siamo noi dicono e c'è il il Antonio Vozza che 47 anni responsabile del pronto soccorso di medicina d'urgenza dell'istituto clinico humanitas di Milano che dice così non reggiamo neanche una settimana quasi la metà dei posti occupata dai casi covid perché ovviamente c'è tutto il tema di tutti gli altri malati che non sono malati di covid e che devono eh dovrebbero essere comunque curati e anche il giornale eh a pagina 9 eh parla del del dello scontro che c'è adesso tra i camici medici di famiglia tra i medici normali ospedalieri e quelli famiglia ed è eh Francesca Angeli che ne parla in prima pagina ma poi a pagina 9 il fronte dei camici si spacca ospedali contro medici di base l'allerta reparti scoperti operatori non specializzati a caccia alle streghe i dottori di famiglia sotto accusa così la mette eh il giornale ma eh per quanto riguarda eh ancora la situazione degli ospedali voglio segnalare anche la stampa che dedica due pagine ovviamente riferendosi a casi specifici però comunque sono diciamo la cartina di tornasole di un problema nazionale a pagina 6 Chiara Baldi, Brianza al collasso, i pronto soccorso non assistono più, il direttore generale della SST di Monza, siamo noi la nuova codogno, è possibile accettare solo urgenze e malati oncologici e poi se vi spostate nella pagina 7 c'è un'intervista di Paolo Russo con il primario del ehm direttore di medicina interna a Varese che dice il primario dell'ospedale con più malati covid possiamo resistere pochi giorni poi alla fine oltre 500 ricoverati per il virus 4 su 10 in condizioni gravissime se c'è da sostituire una valvola cardiaca procrastiniamo l'intervento abbiamo il doppio dei ricoveri per coronavirus dello Spallanzani e poi ci sono testimonianze anche drammatiche insomma cose che purtroppo abbiamo già visto anche nella prima eh nella prima ondata ma andiamo avanti perché le criticità ehm sono sono di diverso tipo abbiamo visto gli ospedali ma poi negli ospedali per esempio eh ci sono i medici e allora andiamo sul Corriere a pagina 11 e leggiamo che ehm Anelli che è il presidente degli ordini dice bisogna chiudere tutto la gente non ha capito la gravità del momento ehm il peggio deve ancora venire se va avanti così tra un mese avremo diecimila morti in più questo è quello che dice Anelli che è il presidente degli ordini ma andiamo avanti perché eh ci sta un eh ci sono prima di passare anzi passiamoci subito eh intanto il domani in prima pagina ehm dice appunto per svuotare gli ospedali ecco gli hotel dell'ossigeno i reparti sono troppo pieni a Roma i pazienti vengono spostati nelle camere degli alberghi protetti dove restano isolati anche dai pochi turisti rimasti e poi se andate a pagina 5 si affronta nello specifico ehm il tema delle RSA covid e ndrangheta nelle RSA i sospetti dell'antimafia alcune strutture accreditate dalla ASD fanno capo a un imprenditore in affari con un uomo legato ai clan una delle residenze sotto accusa per aver ospitato pazienti infetti in arrivo dall'ospedale perché succede anche eh questo ci dice il domani ehm rimanendo nel campo delle criticità eh voglio segnalarvi ehm ehm il 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 giornale a pagina 8 il virus scorre l'allarme dell'istituto superiore di sanità rischio contagi non gestibili il report dice che l'RT l'RT è 1,7 raggiunte le soglie critiche negli ospedali serve una riduzione drastica dei contatti tra le persone e insomma anche qui si parla chiaramente della questione dei medici ma voglio segnalarvi due eh articoli uno sul messaggero a pagina 11 e che riguardano le terapie intensive nella fattispecie perché eh quelle si diceva che si essero messe meno peggio del periodo precedente e però a pagina 11 ha un focus di Marco Evangelisti sul messaggero terapie intensive le vere cifre in media 200 ingressi al giorno i ricoveri quotidiani sono quasi il doppio dei dati ufficiali che scontano le dimissioni Cartabelotta dice la fondazione Gimbe come sapete grave che in Italia non ci siano stime puntuali e qui ritorniamo a Stefano Felti la mia pagina del domani il tema dei dati che non si riesce a capire quali siano i dati ricordo Marattin che nel suo intervento alla Camera l'altro giorno quando c'è stata l'informativa del ministro Speranza poneva uno di questi problemi i dati sul differenziale tra entrate e uscite nelle terapie intensive si devono sapere non è pensabile soltanto sapere chi eh ogni giorno entra perché quei dati possono essere molto importanti ehm segnalo in prima pagina del foglio invece ehm il 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 sulle terapie intensive ehm l'intervista di Cerasa ehm ehm con ehm capo con il capo delle terapie intensive dieci giorni per evitare l'Italia zona rossa il virus uccide anche perché non si fa squadra le notizie sul vaccino mettono molta allegria ma alimentare le illusioni è diventato un gioco troppo pericoloso de responsabilizzare no grazie chiacchierata con il capo delle terapie intensive questo è Cerasa sul foglio ehm c'è il tema dei ribelli così come li chiama Repubblica eh a pagina 8 ehm che la mette così l'italiano ribelle per stanchezza che sfida il virus a colpi di sole complice il bel tempo una folla si è riversata negli weekendi in parchi piazza e lungomare forse per dimenticare la nostra condizione di paese malato ed è Francesco Merlo eh che inizia sulla prima pagina del eh della Repubblica e poi continua a pagina eh 8 eh voglio segnalarvi però a proposito della situazione italiana dello sviluppo del virus italiano eh il punto che fa no chiedo scusa ho sbagliato non è questo il folli lo vediamo dopo ehm no invece voglio segnalarvi che c'è tutto il tema che vedete in ricorrente su che cosa che faremo a Natale ci sarà eh la possibilità di ehm fare le nostre le cene le cose insomma questi che sono i problemi fondamentali e andiamo allora a pagina 5 perché ehm a pagina 5 c'è un'intervista con di Carlo Bertini con Sandra Zampa che è sottosegretaria alla salute nel governo eh che dice presto le regole per il Natale cenone solo con parenti stretti chiusura totale se tutto sarà inefficace non aspetteremo fino all'ultimo e tra l'altro dice il governo ha fatto un ordinativo che basta coprire tutta la popolazione 70 milioni di dosi qui ci si riferisce evidentemente eh al vaccino e poi dice possiamo dire che cittadini comuni potranno essere vaccinati entro l'estate del 2021 e poi dice che i medici di base facciano i tamponi altrimenti rischiano di eh la convenzione eh con lo Stato questo è quello che eh Sandra Zampa scrive eh sul tema del eh Natale ma più in generale sui vaccini e vi dicendo a questo fine però non vorrei eh apparire diciamo eh troppo severo ma non c'è dubbio che il libero a proposito della sottosegretaria della salute mette in evidenza francamente un tweet che ieri si poteva proprio evitare eh perché la la Zampa scrive un tweet con scritto giusto dare la notizia dopo la vittoria di Biden ci si riferisce eh al tema del mh del vaccino e insomma il sospetto era già assorto a più di uno Joe Biden è presidente degli Stati Uniti da soli due giorni e già spunta il vaccino anticoronavirus una bella fortuna una fortunata coincidenza ora ad alimentare i dubbi arrivano anche le dichiarazioni del vice ministro della salute Sandra Zampa che senza giri di parole si congratula con la società del colosso americano e la sua operazione virgolette ho molto apprezzato che abbia atteso l'esito delle elezioni americane la sconfitta di Donald Trump per annunciare l'efficacia straordinaria del vaccino anticovid la scienza ci fa sognare e qualche volta solleva interrogativi e non ha tutti i dubbi francamente eh libero nel evidenziare questa cosa ma per quanto riguarda ancora eh il il Natale voglio segnalarvi il messaggero a pagina sette Natale chiuso per covid un danno da 110 miliardi l'aumento delle regioni sottoposte a restrizioni pesa su pile occupazione con un lockdown a dicembre gelata sui consumi ed effetti negativi nel 2021 Francesco Bisozzi ci mette in evidenza anche al di là dell'aspetto sanitario poi quelli che sono i problemi e che possono essere i problemi invece dal punto di vista eh della eh economia ehm ma allora c'è o non c'è questo eh lockdown nazionale e si è andato sul Corriere della Sera a pagina tre c'è il retroscena di Monica questione di Fiorenza Sarzanini che dice che potrebbe esserci la scadenza decisiva del 15 novembre cresce la pressione per l'Italia zona rossa il report riservato confermato dai servizi sulla saturazione degli ospedali il doppio tampone altre dati il tasso di positività sarebbe intorno al 20 per cento e quindi qui si mette eh in evidenza la possibilità che ci siano dati e ritorniamo come vedete al tema dei dati che non siano tra virgolette eh precisi c'è anche l'avvenire da segnalare su questo eh nella pagina nove me eh medici e infermieri il fronte compatto lockdown totale o il sistema collassa dall'ordine dei medici alla società dei rianimatori fino a tutte le sigle sindacali degli operatori sanitari in dieci giorni rischiamo un raddoppio dei ricoveri bisogna fermarsi adesso e insomma c'è chi ormai invoca il lockdown generale e sicuramente dalla propria prospettiva che è quella sanitaria poi diciamo ci sono problemi che riguardano anche eh invece mh altre questioni tipo l'economia e soprattutto ci sono polemiche eh che eh riguardano lo strumento attraverso il quale eh il governo opera e in particolare di PCM voglio segnalarvi un'intervista del professor Guzzetta sulla pagina 6 di Libero oltre i pieni poteri l'ultimo decreto di Conte è fuori dalla Costituzione ehm Guzzetta dice non si era mai visto il blocco di una regione deciso dall'ordinanza di un ministro o si cambia la carta oppure bisogna rispettarla Antonio Rapisarda lo intervista e non si arrende Guzzetta già sul uniformista va scritto mettendo in evidenza delle criticità obiettive eh a dire il vero ma insomma però eh Guzzetta è un esperto diciamo di diritto poi ci sono gli esperti invece eh che si confrontano tutti i giorni sul eh sui giornali e in questo senso voglio segnalarvi sul messaggera pagina 3 Lonni presente Ricciardi consulente del ministro della sanità servono controlli e sanzioni o il lockdown sarà inevitabile il consulente del governo dice le raccomandazioni sono insufficienti riducono il rischio solo del 3% necessario chiudere le grandi città o comunque le zone in cui l'indice RT è più vicino a 2 che a 1 e questo è l'esperto Ricciardi bene ma veniamo ora al tema sicuramente centrale di oggi che è il vaccino e ce ne parlano un po' tutti i giornali ecco che la sera pagina 8 il vaccino efficace al 90% svolta di Pfizer contro il virus il comunicato dice finora nessun effetto collaterale l'azienda usa promette le prime dosi per fine anno Fauci dice straordinario e poi c'è da segnalare la risposta dei eh mercati e questo sul corriere ehm cosa succede di questo vaccino si dice 50 milioni per la fine dell'anno in tutto il mondo uno dice vabbè ma quindi quanti ce ne arrivano a noi e ce lo dice Repubblica pagina 3 con Tommaso Ciriaco il patto segreto con l'Italia a gennaio 1,7 milioni di dosi il retroscena è l'incontro con i vertici dell'azienda per primi medici e infermieri questo è quello che dice eh Repubblica cioè che all'Italia arriveranno 1,7 milioni di dosi che servono innanzitutto per le fasce più eh a rischio immagino eh ma poi sto vaccino funzionerà non funzionerà serve o non serve quali sono i problemi ce lo dice l'immunologa Antoniella Viola prudenza non è ancora fatta ora la sfida è la distribuzione novità molto promettenti è semplice ed economico adesso aspettiamo l'ultimo mese di test e rispettiamo le regole per evitare il lockdown totale e questo è quello che eh dice la Viola che peraltro dice eh protezione non solo dai sintomi ma anche dall'infezione così può essere risolutivo è difficile vaccinare un intero paese organizzare subito tempi e modi della somministrazione e insomma eh dice che è una bella notizia ma insomma eh vista non potremmo dire noi anche la capacità organizzativa del paese eh nella diciamo nell'organizzarsi dimostrata in questi mesi forse qualche dubbio eh si incontra ma eh mh legittimamente ma eh se poi andiamo sul messaggero a pagina 5 eh c'è anche qualche dubbio sulla efficacia e insomma è il focus di Graziella Melina che dice che gli scienziati dicono prodotto sicuro dubbi sull'immunità di crege per gli esperti l'accelerazione delle procedure non ha generato dei rischi niente fatti effetti collaterali gravi una garanzia l'alto numero di test effettuati vabbè avremo tempo per parlare sicuramente del vaccino ma il vaccino però ha diciamo scatenato le borse e allora andiamo a vedere qualche editoriale sotto questo punto di vista nell'incrocio tra le aspettative le speranze come questo può muovere le borse ma intanto la vita quotidiana normale diciamo si impatta con il virus e vediamo ehm Francesco Guerrera sulla Repubblica pagina 28 ritorno al futuro forse dice il balzo di ieri potrebbe essere semplicemente il trionfo della speranza sull'esperienza come mi ha detto uno scettico veterano dei mercati si riferisce alle borse eh a breve termine il grande ago della bilancia è sempre il vaccino le mellifole parole del colosso americano hanno fatto credere ai mercati ad un ritorno al futuro ma che succederà se ci sono intoppi ritardi e problemi nell'approvazione come spesso accade con le medicine a lungo termine però il voto presidenziale usa avrà più peso con o senza il vaccino i meccanismi di stimolo costruiti da governi banche centrali negli ultimi mesi resteranno intatti tassi bassissimi incentivi fiscali e fondi dell'emergenza saranno con noi per un bel po a fare la differenza è che il leader del mondo libero è cambiato la narrativa adottata dai mercati dopo l'annuncio della vittoria di biden è stata positiva meno caos che con trump con il bonus che il congresso ingessato eh impedirà al nuovo presidente di prendere misure troppo di sinistra quali alzare le tasse trasformare il sistema sanitario attaccare la silicon valley biden e harris potranno sicuramente eh porteranno sicuramente più stabilità alla casa bianca soprattutto nelle relazioni commerciali con la cina e sull'immigrazione la lineatura di trump su entrambe le questioni ha creato problemi ad aziende ridotto il potenziale economico degli usa meno chiari sono i vantaggi del congresso paralizzato come ha dimostrato il wall street journal dal 1928 ad oggi le performance dei mercati è pressoché la stessa quando il partito del presidente controlla il congresso o quando l'opposizione ha la maggioranza in almeno una delle due camere dal punto di vista prettamente economico lo stallo istituzionale è molto peggio di un progetto decisivo di stimolo per l'economia le aziende e i citi medi come quello introdotto dopo la crisi finanziaria del 2008 con il piano Marshall a paragonare la situazione attuale all'europa del dopoguerra è stata non una passionaria di sinistra come alexandro casia cortez ma una figura moderata anzi moderatissima eh jeremy eh grant è uno dei santoni della finanza usa un piano radicale di spesa sulle infrastrutture e di investimenti verdi ha scritto prima delle presidenziali aiuterà a ridurre le disuguaglianze sociale per evitare il risvegliarsi dal sogno come alice i mercati dovranno contare su un anco gioia va bene questo era il direttore del baron grep group vediamo ancora però su questo il de aglio sulla stampa sempre in questo diciamo collegamento tra le elezioni usa e la notizia sul vaccino e le borse che hanno avuto sicuramente ieri un balzo notevole ma scrive de aglio il titolo è ma l'antito non salvava l'economia e conclude così i mercati fiutano aria buona il covid-19 sembra ormai un residuo del passato in poche ore tra europa e america la ricchezza azionaria aumenta di qualche centinaio di miliardi anche il petrolio si aggiunge alla festa con un rialzo del 6 10 per cento nel prezzo del grigio le posizioni di american airlines una delle maggiori compagnie aeree del pianeta balsano del 25 per cento e tutte le linee aeree degli stati uniti si affannano a preparare migliaia di nuovi voli per la festa del ringraziamento del 26 novembre un ringraziamento che dopo mesi disastrosi è condiviso dai loro azionisti durerà non durerà sarà un piccolo bicchiere di aperitivo come quelli che ora si consumano frettolosamente in molte città italiane prima della chiusura imposta a bar oppure il primo di una lunga bevuta che durerà fino alle ore piccole l'esperienza di questi mesi deve consigliare agli economisti ai virologi di fare previsioni con maggiori e migliori dati di quelli che di cui si dispone oggi e a non farsi travolgere dall'ottimismo così come non bisogna cedere al pessimismo le prossime saranno settimane molto lunghe economia e finanza politica interna americana e prospettive mondiali si intrecceranno e si avvolgeranno come non si è visto ormai da moltissimo tempo siamo però di fronte a un sussulto vitale che invita a guardare un po più lontano dall'angusto orizzonte della pandemia con il suo tristissimo interminabile susseguirsi del giorno dopo giorno che il vaccino arrivi a dicembre o a marzo l'importante è che ci convinciamo che qualcosa può migliorare e che tutti possiamo e forse dobbiamo contribuire a futuro così ed è aglio ma per prendere un taglio anche decisamente diverso è quello di zacché sul marcello zacché sul giornale i tempi della scienza e quelli dei mercati che tra l'altro scrive la notizia che non permette alcuna previsione né sui tempi né sulla rete reale efficacia del vaccino ha come spezzato in due la realtà da un lato sono rimasti i pronto soccorso intasati i contagi in crescita i lockdown e le terapie intensive dall'altro i mercati hanno fatto un improvviso basso temporale in avanti entrando in una loro realtà virtuale libera dal covid 19 una proiezione presente di un futuro indefinibile ma ormai certo senza più virus la raffigurazione di questo nuovo stato si è vista sui listini con rapidità impressionante come se titoli azionari con l'economia reale che rappresentano avessero trovato un buco nero attraverso il quale trasferirsi all'istante in un'altra dimensione e conclude così zacché la festa è finita fa riferimento a tutto quello che è esploso in borsa i mercati fanno questo da sempre e ora che sono tutti connessi tra loro lo fanno in tempo reale ovunque anticipano la realtà attraverso l'attuazione di una realtà futura purtroppo tutto sulla carta ma finalmente un segnale di ottimismo questo è il zacchè sul giornale e possiamo abbandonare anche questo abbiamo visto il vaccino ma ci sta anche il tema delle cure ce ne parla il corriere della sera a pagina 9 corsa all'immunità quanti sono i candidati in italia c'è un piano per la distribuzione i farmaci più innovativi si conservano a 70 gradi soltanto fiumicino e malpensa autorizzate a riceverli ma ascoltate ascoltate ci dice margherita debac non hanno i frigoriferi adatti questo sul corriere della sera segnalo ancora su libero a pagina 3 che devo dire il sultano delle cure è sempre stato l'avanguardia tra virgolette l'ex presidente dei virologi europei che il professor palù oltre al siero abbiamo già anche una cura ne produciamo in scarsa quantità ma gli anticorpi monoclonali fanno guarire i malati in pochi giorni e alessandro gonzato che lo intervista su libero e va bene nell'incrocio tra vaccino e tra vaccino e cure speriamo davvero che arrivino notizie positive insomma abbiamo parlato delle borse ed è il sole 24 ore che lo mette in prima pagina il vaccino mette il turbo alle borse è antito da valida al 90 per cento annunciato dalla società usa e il partner biontech piazza affari vola al 5 43 per cento e torna a livelli di marzo wall street ha sfiorato il più 5 per cento nel 2020 saranno pronti 50 milioni di dosi nel 2021 arriveranno a 1,5 miliardi e insomma esplode nelle borse il vaccino a pagina 2 le borse credono alla svolta rally globale rialzi superiori al 5 per cento in europa fino all'8 per cento di madrid vendite su titoli di stato in un contesto di appetito per il rischio va bene vedremo vedremo anche su questo se la borsa poi reggerà con quello che accadrà ma voglio segnalarvi adesso gli aspetti che riguardano la manovra perché molti dicono che la manovra è sostanzialmente da rifare a causa di questo periodo di pandemia che ha inciso e allora la manovra fantasma adesso va riscritta si rischia più deficit e roberto petrini che scrive a pagina 23 della repubblica è stata approvata venti giorni fa salvo intese ma prima di portarlo in parlamento servirà un nuovo vertice tra conte e maggioranza per sciogliere i nodi ed era abbastanza prevedibile venti giorni fa eravamo in un'altra era rispetto al covide a tutto quello che le chiusure quello che ha comportato questo sui decreti di storia insomma tutto quello che abbiamo visto anche la stampa a pagina 11 qui c'è Paolo Baroni che invece fa un articolo su quello che dovrebbe essere nei famosi decreti ristori nel particolare ristore 2 aiuti a musei sexy shop e ambulanti esclusi agenti di commercio e dentisti nel decreto da 2,5 miliardi ristori per 130 attività più fondi per le nuove zone rosse e gialle così la mette il la stampa e ovviamente diciamo il tema potete immaginare dei sexy shop è come se poi quelli non fossero comunque sia dei lavoratori ma insomma non può che far divertire tra virgolette antonio signorini sul giornale ristori soldi pure ai sexy shop a secco gli artigiani della moda rimborsi insufficienti e scoppia la protesta sulla lista del secondo decreto il governo pronto a modificarla questo ci dice il giornale il tempo che anch'esso diciamo non scherzo in quanto a critici a essere critico nei confronti del governo però diciamo con leo venne che francamente che non so francamente è siglato però insomma più ristori per le zone rosse il testo bollinato del decreto allarga gli indennizi a 130 categorie bonus rinforzato per chi ha il lockdown duro per i centri commerciali chiusi nei fine settimana una dotazione di quasi 800 milioni in due anni 52 milioni per i congedi parentali così a proposito delle diciamo varie misure che si stanno prendendo e che poi inevitabilmente incideranno anche sulla manovra anche qui c'è da segnalare il messaggero a pagina 8 indennizi a 130 categorie entrano lavanderie taxi ed è andrea bassi che scrive sul messaggero e prendiamo il sole perché il sole dà la stessa notizia ma poi nella pagina nelle pagina 6 da la notizia di quello che accadrà e cioè ristori bis stop a iva e ritenute più esteso nelle regioni arancioni si allargano i confini delle sospensioni fiscali che ferma pagamenti per 584,8 milioni stop e contributi a tutte le attività limitate fondo per un perduto per 1,1 miliardi e 130 categorie interessate e poi però nella pagina a fianco a pagina 7 interviene il capo di confindustria bonomi al governo chiediamo scelte coraggiose per il futuro nella settimana della cultura d'impresa il presidente degli industriali dice siamo portatori di innovazione creatori di ricchezza serve determinazione nel prendere decisioni sul futuro dei nostri figli e così abbiamo anche la posizione di bonomi e della confindustria ma allora in questo senso voglio leggervi a proposito di economia e di quello che sta accadendo e dei riflessi che potrebbero avere un editoriale di Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera incertezze di troppo prosegue poi nella pagina 32 lo andiamo a vedere subito e Giavazzi la mette così dice il governo continua a promettere che alla fine del mese riceveremo comunque lo stipendio anche se la nostra azienda si è fermata o un sussidio se la nostra attività è stata chiusa dal lockdown alcuni già dubitano di questi aiuti pur rarefatti a parte il fatto che molti ai sussidi non hanno accesso e molti pur avendone diritto non lo ricevono i lavoratori in casa integrazione in attesa del primo bonifico erano a fine settembre almeno 100.000 e il totale di mensalità che l'Inps doveva ancora pagare quasi 300.000 davvero improvvisamente lo Stato può indebitare senza limiti e senza conseguenze si può indebitare perché il debito non è più un problema neppure prima che arrivino i fondi europei che pure sono anch'essi debito né tranquillizza ascoltare il presidente del consiglio affermare che è necessaria una nuova strategia di organizzazione della presenza pubblica nell'economia che non ostacoli il mercato ma sappia intervenire e indirizzarlo davvero dovremmo fidarci ad occhi chiusi degli indirizzi della politica le aziende private la storia delle imprese pubbliche in questo paese almeno quelle su cui il mercato non vigile ne lascia qualche meno ne lascia quanto meno dubitare ma che cosa è precisione l'incertezza e che effetti ha sul comportamento delle persone come ho già scritto quattro anni fa su queste pagine sporsi a situazioni che comportano dei rischi fa parte della nostra vita quotidiana ma l'incertezza è diversa dal rischio affrontare un rischio significa esporsi a un evento aleatorio essendo in grado di stimare la probabilità che esso si verifichi gioco la roulette e so che se non è truccata la probabilità che esca in rossa esattamente al 50 per cento al contrario in situazioni di incertezza non si conosce con precisione la probabilità che un evento si verifichi o non la si conosce affatto in altre parole l'incertezza non può essere descritta nei termini probabilistici applicabili a un gioco d'azzardo non solo non sappiamo che cosa accadrà spesso non conosciamo neppure che cosa potrebbe accadere e conclude così Giavazzi la conclusione sempre vera nei momenti difficili che la storia presenta e ripresenta è l'importanza per un paese di avere un governo che regoli ma non interferisca e sappia tenere la rotta adottare rapidamente misure efficaci e spiegare i provvedimenti presi in modo semplice adottare provvedimenti efficaci e spiegarli in modo semplice aiutare i cittadini a diradare le nubi di incertezza è il compito primo di un governo a livello nazionale locale in una situazione di emergenza come quella che attraversiamo lo sforzo deve coinvolgere la politica tutta maggioranza e opposizione ma il governo aspetta la prima mossa così Giavazzi sul Corriere della Sera a proposito dell'economia e vediamo e vedremo poi bene che cosa succede è chiaro che l'economia italiana è legata anche alle politiche della comunione dell'Unione Europea allora segnalo dal messaggero a pagina 19 la notizia che bilancio where recovery fund in frenata l'Ungheria di Orban si mette di traverso ai paesi che violano lo stato di diritto non saranno più erogati fondi europei il premier annuncia il veto per il caso Boeing Airbus sanzioni commerciali per 4 miliardi negoziabili scontro gli Stati Uniti insomma questo recovery fund è meno prossimo di quanto non immaginiamo per tutta una serie di ragioni compresi i meti che i paesi sovranisti in particolare Orban mette ce lo dice anche il l'avvenire a pagina 6 piano anti povertà con fondi dell'Unione Europea e Amendola il ministro Amendola che dice nel recovery risorse per edilizia pubblica e fondi per il lavoro giovanile sì buone intenzioni però se il recovery non passa la cosa non è semplicissima beh abbiamo parlato del virus e diciamo dire i vaccini e delle politiche per contenere il virus ma anche delle elezioni americane come si incrociano questo con l'uscita ieri con discorso ieri di Biden la supplica di gioia restiamo uniti contro il covid Biden annuncia la sua task force studio un piano nazionale la mascherina salva vite americane questo è quello che ci dice il Corriere della Sera e poi ci dice chi è Stefano Bertuzzi che sta nel gruppo della Casa Bianca quello penso in piedi da Biden finché non si è che è stato nel gruppo della Casa Bianca finché non si è di fatto dissolto e dice l'italiano vicino a Fauci mancano i reagenti per i testo l'intervista che Viviana Mazza fa al sul Corriere della sera andiamo avanti perché c'è da parlare ancora degli USA e in questo senso voglio segnalarvi sui riflessi in Italia voglio segnalarvi Walter Veltroni sulla Repubblica a pagina 17 intervistato scusate questo è il giornale non è la Repubblica la Repubblica la proviamo subito eccola qua Veltroni a pagina 17 da Biden un modello per la sinistra il riformismo coraggioso sono preoccupato per il ritorno al proporzionale ho l'impressione che si stia perdendo la strada si prendendo la strada sbagliata nel momento sbagliato la domanda che gli fa Francesco Bay che è il vice direttore di Repubblica è in Italia c'è qualcuno che assomiglia a Biden in Italia non c'è un sistema presidenziale non serve un uomo solo serve una grande idea collettiva capace di potevare mitone di persone col grande popolo che serve che crede in valori progressisti è chiaro che il sistema elettorale genera dei comportamenti politici io faccio una domanda tra Sanders e Biden ci sono più o meno differenze di quelle che ci sono tra i diversi soggetti che compongono la complessa area del centro-sinistra in Italia credo molte di più risponde Bay esatto però quelle differenze in USA convivono all'interno dello stesso partito e combattono insieme è la vocazione maggioritaria un'espressione che io ho preso da François Mitterrand ci vuole una legge elettorale che consenta questo processo e il formarsi di coalizioni che chiedono ai cittadini di essere scelte sulla base di programmi e valori condivisi che governino per una legislatura risponde Bay allora siamo freschi da noi andiamo verso una legge proporzionale per questo sono molto preoccupato ho l'impressione che si sta prendendo la strada sbagliata è stata nel momento sbagliato siamo di fronte a una situazione drammatica per le decine di migliaia di persone morte per i ragazzi che non vanno a scuola per le persone che perdono il lavoro e per le imprese che chiudono per il grande debito che stiamo contraendo l'Italia nei prossimi anni avrà bisogno di governi stabili decisi dai cittadini ecco sia il maggioritario che la vocazione maggioritaria Walter sa benissimo che è stata archiviata dall'attuale leadership del Partito Democratico dal suo segretario e che diciamo è sicuramente all'origine anche della decisione di molti di noi visto che era la negazione della ragione fondante del Partito Democratico voluto da Veltroni di almeno sicuramente per quanto mi riguarda aver abbandonato il Partito Democratico e non avallare una scelta così per me sconsiderata come quella che è stata presa ma a proposito dei sovranisti voglio segnalarvi sulla stampa a proposito dei riflessi delle elezioni americane sulla stampa Flavia Perina, pagina 27 che ci parla dei sovranisti italiani e insomma dice l'ascesa del leader sovranisti tra giugno 2016 e il referendum britannico all'europeo di 2019 era apparsa come uno tsunami di lunga durata non solo politico perché collegato a una nuova e inaspettata egemonia culturale la sfida al politicamente corretto, l'oltraggio alla convenzione persino alla rozzezza maleducata anche grazie alla legittimazione del commander in chief americano si erano imposti come estetica vincente pure nel nostro continente tra la sorpresa di chi lo considerava più adulto, più sofisticato, più complesso dell'America profonda e qui si fanno tutti i casi, Farage, quello che è successo insomma varie cose, si fa riferimento anche a Alba Dorata insomma si fa riferimento a Salvini insomma si dice che però non è esploso così e la fine di Trump sicuramente inciderà anche su questo è inutile che io vi parli dell'America tanto l'avete sentito in tutte le notizie però insomma se volete c'è da segnalare sul Corriere della Sera a pagina 5 che Trump caccia il capo del Pentagono non accetta risultati però intanto non perde il vizio di licenziare come scrive Massimo Gaggi e sarebbe pensando di ricandidarsi per il 2024 però nel frattempo c'è da segnalare anche che come sarà il Senato tutto si gioca per avere la maggioranza con i due ballottaggi che decideranno gli equilibri e si riferisce alla Georgia dove il reverendo è la donna d'affari il giornalista, la sorte del Senato si gioca in Georgia poi ci sono già delle spine nel fianco dei democratici e di Biden ce lo dice Repubblica a pagina 14 perché c'è Ocasio Cortez caro Joe e noi progressisti non siamo il nemico intervista alla leader dell'ala sinistra del Partito Democratico bene, chiudiamo qui se volete vedere poi ci sta il Corriere della Sera che ci dice come ha reagito che è un po' tutti i giornali come ha reagito la Cina nei confronti dell'elezione di Biden non ancora riconoscendolo ufficialmente aspettando risultati a differenza della Merkel ce ne parla in particolare la Repubblica a pagina 13 che invece lo fa per quanto riguarda gli altri argomenti voglio segnalarvi dal riformista pagina 6 un articolo di Tiziana Maiolo sulla vicenda Open circo dei processi politici entra Renzi e Scemaroni dopo che la Cassazione aveva smontato tutte le cose sulla fondazione Open un PM rimesso in mezzo il leader d'Italia Viva l'ex presidente della Lombardia da sei anni è fuori dai giochi ma ora il fatto non sussiste e insomma questo è quello che succede in Italia l'abbiamo già visto ma ne vedremo ancora di questo sicuramente per quanto riguarda la giustizia segnala ancora sul riformista Caselli che a pagina 3 ci dice Piero Sanzonetti confessione o morte la tremenda Bibbia della giustizia 5 stelle l'ex procuratore di Palermo si scaglia contro il collega napoletano che è Woodcock che aveva messo in discussione il 41 bis rivendica il valore della punizione estrema la diversità antropologica del mafioso definisce le carceri Grand Hotel e chiede che l'emergenza diventi ordinaria vabbè diciamo che qui è meglio tacere voglio segnalarvi perché questo merita perché adesso sta diventando il nemico numero uno il pericolo della nostra città il famoso writer Geko ce lo dice il messaggero a pagina 16 è stato beccato adesso sembra che sia stato beccato il più grande terrorista ricercato a livello internazionale fa tutto un po' ridere preso Geko writer fantasma era il più ricercato d'Europa rendetevi conto stiamo parlando di uno che sicuramente imbratta quello che volete ma scrive sui muri segnalo per quanto riguarda aeroporti c'è la Repubblica a pagina 22 che ci dà notizie su come sta evolvendo la situazione così come vi segnalo la vicenda di Genovese quello di Facile.it oggi è la stampa che ne parla nelle pagine 20 e 21 vi segnalo una intervista di Walter Veltroni sul Corriere della Sera a Ravasi Gianfranco Ravasi che è il cardinale presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura e del Cortile dei Gentili e poi per quanto riguarda la politica estera la Birmania Sanzuki vince il Corriere della Sera a pagina 23 ma vede qualche ombra su questa vittoria sul foglio vi segnalo a pagina quarta dell'inserto un'intervista con l'attuale responsabile di Charlie Edo sul tema del spettato che lo troviamo sul tema della religione della eccolo qua contro islamisti e vigliacchi travestiti da tolleranti parla Valle l'ex direttore di Charlie Edo non se ne parla di abbandonare l'Europa è la parte migliore dell'umanità insomma se volete ve lo segnalo e poi per quanto riguarda l'India invece il virus l'India la catastrofe che si sta consumando avvenire a pagina 10 con questo è tutto chiudo la rassegna stampa e se volete ci vediamo domani alla stessa ora buona giornata a tutti a tutti